per noi è fondamentale per rispondere alle esigenze di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali siano questi legati a un handicap, siano questi legati a difficoltà linguistiche però direi che questa scuola con questo progetto dà un ulteriore valore aggiunto per tutti gli altri per tutti gli alunni perché nelle loro competenze comprendere e utilizzare un nuovo linguaggio diverso aumenta la loro capacità anche di relazionarsi in contesti diversi che non siano soltanto l'ambiente scolastico quindi penso che il valore aggiunto non solo sia di risposta ai bisogni dei bambini con spettro dell'autismo o con difficoltà linguistiche ma anche per tutti come ampliamento delle loro capacità relazionali